GIOVEDÌ SANTO Dal Vangelo secondo Giovanni Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano, di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro, e questi gli disse, Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù, quello che io faccio, tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro, tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù, se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro, Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù, che ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva, infatti, chi lo tradiva. Per questo disse, non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo, e disse loro, Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi Maria Epicoco Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Non si può entrare nel triduo santo senza comprendere con quale amore siamo amati. L'amore di Gesù non è solo amore, ma è amore sino alla fine. È amore anche quando non conviene. È amore quando tutti scappano via. È amore nonostante tutto. Ed è proprio la memoria di questo amore fino alla fine che ci fa entrare nelle ore della passione. E per non lasciare niente fuori, Gesù parte dai piedi. Si alzò da tavola, depose le vesti, e preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino, e cominciò a lavare i piedi dei discepoli, e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Gesù parte ad amarci dalla parte più sconveniente di noi. Egli non inizia ad amare i nostri pregi, i nostri talenti, le nostre capacità. Egli, invece, parte dalle nostre zone d'ombra. Ama a partire da ciò che non conviene di noi, ed è lì che trova le nostre resistenze. Venne dunque da Simon Pietro, e questi gli disse, Signore, tu lavi i piedi a me, rispose Gesù. Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo. Gli disse Simon Pietro, non mi laverai mai i piedi. Ma non si può capire niente di Gesù, finché non gli si permette di amarci nella nostra miseria. Gli rispose Gesù, se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro, Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Quando abbiamo capito che è l'esperienza della sua misericordia la cosa più importante, allora vorremmo esporre tutto di noi a quella esperienza. Soggiunse Gesù, che ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi del tutto mondo. E voi siete mondi, ma non tutti. Sapeva, infatti, chi lo tradiva. Ma, pur sapendo chi lo tradiva, lavò i piedi anche a lui. Gesù, in quest'ultima sera della sua vita, si mette in ginocchio davanti ai suoi discepoli. Si inginocchia davanti a tutti. Anche davanti a Giuda. Ama contro ogni speranza. Grazie. Grazie.